Dunque l'IDV come altri partiti, anche il PD, ha chiesto il rimpasto di giunta. Il termine rimpasto non è un termine da prendere negativamente. Anzi, solamente chi è in mala fede ritiene che un uomo, una donna, non possa essere sostituibile. Non ho mai visto, eccetto che in una monarchia, un atto di lesa maestà, ma noi siamo in una repubblica. Il Consiglio ha delle funzioni, l'esecutivo, la giunta si chiama esecutivo perché esegue le cose che dice il Consiglio. Forse qualcuno se ne dimentica. Detto questo, perché si è chiesto il cosiddetto rimpasto? Cioè il cambio di alcuni uomini e donne. Perché si cambia la Costituzione, si cambiano i manager. Quando c'è una patologia e uno va da un medico e si fa fare una diagnosi, il medico dà una terapia. Se poi uno non prende la pillola, l'iniezione che il medico dà, significa che è scriteriato perché non si vuole curare. Altri, molto fantasiosi, dicono ma sai il cosiddetto rimpasto ci vogliono due anni e mezzo. E chi l'ha detto? Dove sta scritto? In quale libro di patologia della politica c'è scritto che il rimpasto ogni anno e mezzo, ogni due, ogni tre? Ma dove sta scritto? Non sta scritto da nessuna parte. Detto questo, monta un'opinione comune da un po' di tempo a questa parte che il sindaco, il nostro sindaco, ma qualsiasi altro sindaco, i cosiddetti sindaci insomma, abbiano creato una sorta di opposizione al Consiglio. Io ritengo che, o il Consiglio si opponga al sindaco, io ritengo invece che sia solo un fatto mediatico. E' perché la legge dà al sindaco apparenti superpoteri, ma non superiori a quelli del Consiglio, che mediaticamente i giornalisti, i media, chi sta nei blog, eccetera, avendo, anche se non ha letto la morfologia della fiaba di Vladimir Propp, vede nel sindaco Robin Hood e il buono e tutti gli altri diventano cattivi. Ma non vi viene mai in mente che qualche assessore sia davvero scarso o insufficiente, non voglio dire un'analfabeta, ma giù di lì? Ecco, detto questo, qual è la carenza di questa giunta nei confronti di chi esercita l'attività legislativa che, ripeto, è il Consiglio? Il non rapporto tra assessori e Consiglio. Uno non può prendere impennate come questa delle multe e va là e fa una delibera di giunta. Sono passaggi che vanno fatti in maggioranza. Poi qualcuno dice, ma facciamoli ancora governare a questi assessori, no? Perché gli dobbiamo dare, come dire, del tempo. Si ritorna a questo tema della temporalità, ma se una patologia c'è, è sciocco non intervenire subito. Anzi, è una cortesia che noi facciamo al sindaco nell'indicare chi è in grado di avere rapporti reali e veri con il Consiglio, non soggetti, diciamo così, virtuali. virtuali, capisco che a volte gli assessori si schiaccino troppo nei confronti del sindaco e troppo poco nei confronti dei cosiddetti partiti. Il tema partito, il partito non è una cosa assurda, il partito, perché anche il sindaco appartiene a un partito, o no? Perché uno non vince perché è Masaniello o Batman, vince perché lo porta a un partito. Io appartengo a questa tradizione per cui ritengo che solo la dialettica tra sindaco e partiti, cioè tra gli eletti dal popolo, in quei parole, i consiglieri, possa farci superare la crisi. Inutile poi andare sempre a dire che Berlusconi è cattivo o ci ha tolto lì, ci si, ma questa amministrazione deve invece cercare di trovare nuove fonti. L'ufficio tecnico è totalmente bloccato, è totalmente bloccato, il piano casa, i nuovi tecnici che ci sono lì affossano il sindaco, lo stanno affossando perché stanno bloccando le entrate, forti entrate di varianti vecchie, urbanistiche. Quindi da un lato si dice che non abbiamo più soldi, dall'altro c'è l'ufficio tecnico che ostacola lo stesso consiglio. Quindi io, anche come TV, ho chiesto al sindaco di rimediare a questa vicenda dell'ufficio tecnico. Non si può essere dipendenti dei direttori generali degli uffici finché c'è la politica. Come risponde ex-vicesinnaco Lorenzo Marconi laddove dice che Spuri è scomodo perché non tutela degli interessi particolari? Non so a cosa si voglia riferire il termine Spuri è scomodo, però mi pare che Spuri non sia scomodo da quanto dice Lorenzo Marconi. Mi pare che sia scomodo anche alla provincia perché non credo che goda di ottima, diciamo così, parliamo sempre di empatie, di simpatie in provincia e altrove. Io dico tra l'altro che Spuri di urbanistica sa poco, lui è bravo nelle opere pubbliche. E' come se io che insegno filosofia o lettere andassi ad insegnare chimica o matematica. Lei deve chiedere ai cittadini che vanno a fare le pratiche, a chi vuole sbloccare sull'efficienza o no. Non tanto di Spuri, dell'ufficio tecnico a partire da Spuri. Quindi non si può sbloccare la verifica finché anche non si affronta il problema urbanistico. Non sul tema della cementificazione perché lo sanno tutti che la commissione urbanistica era d'accordo con la provincia per non introitare altri 125.000 metri cubi. Era Spuri che aveva controdedotto, siamo stati noi che abbiamo bloccato. Quindi le informazioni vanno date abbastanza bene e con precisione. Io ritengo che dopo questa crisi, che a mio avviso è grave, il sindaco abbia tutti i tasselli e tutte le informazioni che gli abbiamo dato per poter arrivare a una sintesi. Dopo una lunga analisi, anche perché è una vicenda che ormai si trascina da tre mesi, quattro, questa della verifica. E soprattutto auspicherei che alcuni assessori non si dichiarassero troppo assessori del sindaco. Perché gli assessori stanno lì grazie anche a noi. Perché non sono gli assessori, tra l'altro, uno dice il sindaco è nuovo. E' un sindaco nuovo, vuole una grande novità. D'accordo, chiama Emanuele Cante alla cultura, chiama l'ingegner Nervi a urbanistica. Ah, ma non mi pare che in giro ci siano dei premi Nobel. O gente arrivata da Harvard. Ci siamo ben capiti, no? Punto. Non mi pare che in giro, non mi pare che in giro, non mi pare che in giro.